Una personalità, un uomo delle istituzioni, che non ha mai dimenticato le sue radici e che si è sempre distinto a livello nazionale e locale. La provincia dell'Aquila, Palazzo Silone, ha conferito oggi la benemerenza all'onorevole Gianni Letta. L'evento fa seguito alla deliberazione unanime del Consiglio Provinciale dello scorso 10 febbraio, quando il presidente Angelo Caruso ha nominato la consulta provinciale interna, che ha successivamente espresso il parere favorevole al conferimento dell'onoreficenza a Letta. Un momento solenne al quale sono stati invitati i vertici delle istituzioni regionali e provinciali, i sindaci del territorio, con il sindaco dell'Aquila Perruggi Biondi, e anche alcuni alunni di un istituto del territorio di Capitignano, che già avevano fatto visita a Gianni Letta a Roma. Nel corso della mattinata ha inviato un saluto videoregistrato anche il giornalista aquilano Bruno Vespa, ricordando gli esordi giornalistici. Molto importante la preziosa opera dell'onorevole Letta nel possisma all'Aquila, un uomo che è sempre rimasto legato al territorio. Un riconoscimento molto gradito, che mi commuove, mi emoziona, e che dimostra una volta di più che le mie radici sono qua. Le ho sempre sentite, le ho sempre vissute con una grande presenza e partecipazione, in tanti anni, e ne ho tanti. E mi fa molto piacere che anche i miei concittadini e corregionali abbiano capito e sentito che il mio rapporto con la provincia dell'Aquila è fortissimo, con tutta la provincia, che non solo sono nato qui, ma qui ho la sede dei miei affetti, dei miei ricordi, e in tante parti della mia vita anche della mia attività. Quindi sono e rimarrò legato a questa terra e tornerò, spero il più tardi possibile, a riposare qui. Un atto doveroso, che nasce ovviamente da un diffuso senso di gratitudine, nel riguardo di una personalità, che si è distinta sul piano nazionale, si è distinta per l'Abruzzo, ha operato in maniera straordinaria, eccellente. Gli riconosciamo tutti i doti straordinari nel campo della diplomazia, nel campo della modellazione e dell'intermediazione. Grazie.